Questo è un diapason. Esso vibra e possiamo udirne il suono. I rebi del diapason, vibrando, colpiscono le particelle d'aria circostanti mettendole in movimento. Esse a loro volta trasmettono il movimento alle loro vicine e così via, in modo che esso si propaga in tutto lo spazio circostante. Quando il movimento raggiunge il nostro orecchio, noi percepiamo un suono.